Sono partiti questa mattina dal Consiglio regionale 150 ragazzi pugliesi diretti al Parlamento Europeo di Bruxelles per International Day Against Corruption. Iniziativa voluta dall'Associazione Terra del Fuoco Mediterranea. L'intervista all'assessore regionale alle politiche giovanili Nicola Fratoianni di Sedia di Pinto. 150 ragazzi in partenza per Bruxelles. La Puglia è l'Italia, la regione che ha fornito la delegazione più importante, ha un'iniziativa di grande rilievo che si svolgerà a Bruxelles il prossimo 9 dicembre. Sarà l'occasione nel Parlamento Europeo di discutere di come oggi la lotta alla criminalità, alle mafia e agli interessi illeciti è una lotta che ha la possibilità di ottenere un successo, di vincere solo se assume una dimensione globale, internazionale. La mafia, la malavita è oggi il principale soggetto capace di adattarsi, di muoversi, di prosperare dentro la globalizzazione. Lo fa dal punto di vista economico, finanziario, lo fa perché spesso le legislazioni internazionali degli altri paesi non sono sufficientemente efficaci. Quanto i giovani pugliesi sentono l'importanza di combattere la criminalità per costruire un futuro migliore? Io credo che in questi anni, grazie al lavoro di queste associazioni e forse in piccolissima parte, anche grazie al lavoro di una regione che ha fatto di questa battaglia culturale un'assoluta priorità, credo che questa consapevolezza sia andata crescendo. E ripeto, se oggi penso ai volti, alle facce di questi 150 ragazzi che hanno occupato il Consiglio regionale, è un'occupazione diciamo più che gioiosa, fra l'altro consentendo a quel Consiglio ogni tanto di respirare, di aprire le porte sul mondo. Se penso a quelle facce io credo che questa consapevolezza sia una consapevolezza che cresce, che ci offre una speranza. Capiamo argomento, 88 scatti dell'architetto Enrico Peressuti per raccontare la murgia pugliese degli anni 50. Inaugurata oggi la mostra fotografie mediterrane al Castello Svevo di Bari. Vediamo. Volti coi solchi del tempo, arsi al sole dei campi, le botteghe artigiane, gli olivi secolari e poi il bianco totalizzante quasi accecante dei trulli, il verde e il giallo dei campi della murgia pugliese di 50 anni fa, camuffati dai chiaroscuri che la reflex di Enrico Peressuti, architetto veneto trapiantato a Milano, prova a catturare per rendere le suggestioni di un paesaggio unico, autentico, ancora integro. Come doveva sembrare ai suoi occhi la Valle d'Itria, quando negli anni 50 vi realizza un reportage di 300 fotografie, di cui 88 da oggi fino al 18 dicembre, in mostra presso il Castello Svevo di Bari. Fotografie mediterranee, un progetto voluto dal Politecnico di Bari e dall'Università UAF di Venezia. In un momento in cui abbiamo parte del Rettorato occupata dagli studenti, con i quali peraltro noi siamo solidari, devo dire, nella critica a questa riforma, però abbiamo continuato con le nostre attività e portare questa mostra così importante che poi andrà a Castello Sforzesco in Milano, tornerà a Dudine, ritornerà in Puglia ad Alberobello, dove sono nate queste foto. E' per noi un modo di comunicare la nostra vitalità, la nostra presenza sul territorio. Sulle note del tabarro di Puccini e della Cavalleria Rusticana di Mascagni, si è aperta ieri la nuova stagione del Teatro Petruzzelli di Bari, il servizio di Maria Alessandra Bellomo. Il tabarro di Giacomo Puccini e la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni per la regia di Michele Mirabella hanno aperto ieri la seconda stagione del Politeama a Barese. Sul podio dell'orchestra della Fondazione Petruzzelli, il maestro Alberto Veronesi, il rito dunque della prima nel giorno di San Nicola, resta intatto. Gli interpreti e i musicisti immersi in un'atmosfera di grande espessore hanno regalato al pubblico due celebri e conosciute pagine musicali. Per il sovrintendente Gian Domenico Vaccari si tratta di un piccolo miracolo. Sono veramente contento, ringrazio tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa serata. ringrazio il pubblico che sta affluendo e confermando ed intensificando gli abbonamenti e come sempre viva il teatro, viva il Petruzzelli e vogliateci bene perché noi ve ne vogliamo tanto. Non sono mancate nel giorno dell'inaugurazione le proteste contro Italia e la cultura che secondo Antonio Fujano, coordinatore regionale per lo spettacolo della SLC-CGL, potrebbero far saltare a breve la fondazione barese. A occhio a croce febbraio-marzo non regge perché praticamente il finanziamento già quest'anno è stato irrisorio per un teatro come questo, appena manco 6 milioni. Ma se ci sarà quel taglio si andrà a 3-4 milioni di euro. Gli enti locali non potranno far più di tanto, uno si fa due conti, capisci che può durare 2-3 mesi così poi non c'è più ossigeno. Presentata questa mattina a Palazzo di Città, un amico Nicolino e un amico in comune. La campagna di comunicazione rivolta agli alunni delle scuole elementari è finalizzata a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini di domani. Il comune di Bari diffonderà all'interno delle scuole un cartone animato e premierà i migliori disegni, cartelloni e saggi brevi sotto forma di lavori di gruppo per il concorso La città che vorrei. Passiamo alle previsioni del tempo. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature comprese fra 14 e 19 gradi, venti moderati da sud e mari mossi. Vi ricordo poi i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Grazie per essere stati con noi e a più tardi. Grazie a tutti.